Passavo da man giro e succedeva con il discorso. 2, 3 moggi non ho, 3,5 studio, 5,7 moglie, 7,8,1. un po' da prima e soprattutto chi vuole prima non lo so a me ma tanto che quando è nato mio Marco e quindi è un mare importante io invece ricordo sempre una cosa la Monica, intanto ti tiro punto perché in quarta liceo l'unica volta che ci siamo andati a scavare perché c'è tanto di te carnevale ci chiama il Pecori c'era anche Luca consiglio l'istituto perché dice mi raccomando domani martedì grasso non voglio venire ma io ce l'avevo dietro per si usare ma io e Luca la Monica ha detto non puoi non stare a mascare è la mamma da mamma è finita non si sa dove sono sono la mia ma appena finitoli ci sono ti intrattegono in casa io mi ricordo sempre un vanguardio ma ma guardate ma te non ti ricordi chi li ha tirato lì io vestito da arabo l'ho detto al Corridoio! 79? No, si, aveva la cosa c'era! 79! Avevano rapito un po' i 79! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Poi di quello va a fare! Poi di quello va a fare! Poi si è dato il prestito! Ma che vivrete! Si! Noi si è dato il prestito! Ma tu la riconta! 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 No, no! Ma la faccia! Si! Mi ricorda che il giorno della maturità sono passata la casa a me! Ma quella è la mia conoscenza! Ma io! 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 Ma tu la ricordo! Ma io! Ma tu la ricordo! Ma tu la ricordo! Ma io! Ma io! Non ero! E Donnello exercising! E ho cominciato a fumare! No! Non vi facesse! Ma ho cominciato... le came senza figlio! Oh! Prostanteしました? Bello! Di fumi ancora? Cesare, l'hai abitato! Provecchio! Ancora! Ora ti faccio la pizzi moglie! Eh, ma queste però non le dette, al caro nilfo! Non che passi il tuo tempo a guardarla, a osservarla, leccarla e baciarla! Eh, non ci arrivo più! Però l'oggetto dei nostri argomenti era sempre qui! L'ho capito! Che non vuoi parlare la qualità? Esatto! Cosa vuoi parlare? 76 Eccolo! 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 No, no, male sapere! Chi ce l'ha? Io! Sospendiamo un attimo! Al caro nilfo! Vado prima a vedere tu! Che sono...